E' Mauro Finetto il dominatore della seconda frazione in linea del Tour de Slovacchie 2016. Il portacolori della Uniauro Villier Trevigiani regala alla sua squadra la seconda vittoria dopo quella di ieri di Malucelli, al termine di una frazione di 170 km, precedendo il russo Pozniakov e Vitaly Buz. Grazie alla vittoria di tappa, per Finetto arriva anche la maglia di leader della classifica generale, davanti proprio a Buz e Pozniakov.